oh eccola qua la pietra su cui se potessi sedere ha anche lo scanso qua bello ed è bella piatta dietro per poterci mettere lo zaino quando vedo queste pietre così belle piatte invitanti all'uomo per accomodarsi e sedersi purché per breve sia per breve tempo perché altrimenti te viene il apri a star massa sentata mi ricordo di quelli che raccontavano gli anziani anche mio papà che la usava anche lui per riposarsi ma questo questa superficie bella piana era ottima per versarci la polenta calda appena fatta proprio in fuoco in focolare lì improvvisato e vicino era la loro tavola era anzi era il tagliere su cui versare la polenta molto dura e da mangiare e da gustarsi quel poco che potevano e con tutta la fame che avevano accanto alla polenta ovviamente la fiasca di acqua fiasca intendo le zucche quelle con il collo allungato pietre che meritano di essere rispettate accarezzate forse altro per quello che sono servite a chi c'è stato qui prima di noi e che sicuramente a lato ognuna di queste meriterebbe una tabella con scritta una preghiera al buon dio come facevano i nostri antenati su questa montagna poter far merenda far marenda sempre se avevi con te qualcosa da mangiare ed è uno dei primi detti che ho imparato quando mi ricavo in montagna con i miei in montagna chi si importa magna e ogni volta che mi fermo a fare puntino penso sempre a quella volta quel proverbio a quel modo di dire tipicamente veneto ma che presumo sia uguale in tutta italia che in montagna chi se ne porta magna pertanto ricordatevi di farlo anche voi quando andate in montagna portatevi anche una di quelle barrette a lunga scadenza non si sa mai oltre all'acqua qualcosina da sgranocchiare e da avere energie nel mio caso una buona banana oltre all'acqua oltre all'acqua in no